L'opposizione ha chiesto il voto di fiducia, noi non l'abbiamo chiesto il voto di fiducia, fa un intervento serio e dice che non ha chiesto il voto di fiducia, quindi chi l'ha chiesto il voto di fiducia? Perché qua è lo scarico a barile delle balle ancora una volta, per far sì che nessuno abbia le responsabilità delle reazioni che compino, perché questa fiducia l'ha chiesta chiaramente il governo, non l'ha chiesta sicuramente l'opposizione, l'hanno imposta al Parlamento, ancora una volta per bypassare l'iter del Parlamento. Vengono in aula, Fioro e Rosato e tutti gli altri simpatici dell'alleanza PDP-DL ci vengono a dire che è colpa del Movimento 5 Stelle, ci vengono a dire che è un problema politico del Movimento 5 Stelle, ci chiediamo se Rosato parlasse a nome dei dalemiani, dei renziani, dei giovani turchi, dei democristiani, di chi stesse parlando, perché i problemi interni mi sa che c'erano loro che non capiscono nemmeno che rapporto hanno con la loro maggioranza, visto che non si appalano più nemmeno tra di loro. Noi qui vogliamo fare politica, per fare politica il Parlamento deve essere libero dalla dittatura governativa. Questo è quanto. Il Parlamento deve essere libero dalla dittatura governativa.